Oggi qui siamo nel quartiere della Via Potenza, come vedete siamo qui a prenderci cura del quartiere, questo è ormai l'ennesimo intervento, ormai questo quartiere fa parte anche della città di Mazza del Vallo. In passato nessuno se ne prendeva cura, oggi come vedete ci sono gli operai che stanno pulendo la peneta, la stanno dando alla luce e in più ci stanno venendo degli interventi di potatura. Dico semplicemente che il verde pubblico deve essere il nostro obietto da visita, noi ci stiamo mettendo comunque la faccia nel rendere questo quartiere vivibile. Dico semplicemente a tutti i cittadini mazzaresi che cercate non solo di criticare ma di collaborare, a iniziare dal conferimento del rifiuto negli appositi cassonetti e negli orari previsti dall'ordinanza sindacale. Dico solo a tutti che noi dobbiamo cercare di migliorare la qualità della nostra città, la qualità della nostra città la miglioriamo migliorando la qualità della nostra vita e del nostro territorio, mazzare è nostra, quindi prendiamoci tutti cura iniziando veramente a cercare di dimostrare grande prova di maturità. Infine devo ringraziare l'amministrazione comunale perché questi quartieri in passato erano abbandonati a se stesso e da quando c'è questo lavoro sinergico tra consigliere e amministrazione siamo riusciti veramente a dare dignità a certi quartieri che prima non avevano voce e che adesso invece hanno voce in capitolo.